Questa è la storia di Trieste, l'orgoglio per me che pro tempore faccio l'assessore all'istruzione ma che sicuramente sempre sarò triestina è sapere che l'eccellenza e la grandezza che molte generazioni hanno saputo esprimere regalando futuro perché questo è il tema, non si regalava presente, non si lavorava sul contingente, sul quotidiano, si lavorava su una visione e quello che mi auguro che dal nautico come sempre poi è stato si riesca a trasmettere a tutto il resto del nostro tessuto formativo di istruzione, di alta formazione all'interno del mondo del lavoro che credo da questo vaccino abbia attento le sue 20 milioni. Grazie.